Ah, devo trovare qualcuno con cui fare le Bedwars Ehi Scusa Mi scusi? Eeeh Posso fare le Bedwars senza crashare? Oh ma ci siete anche voi Allora, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo ritornati nelle Bedwars Speriamo di non crashare anche questa volta Sono tornato nelle Bedwars perché Lo scorso video delle Bedwars ha raggiunto le 80 visualizzazioni Non so cosa ha mangiato a colazione però le ha raggiunte Quindi vi ringrazio tantissimo E oggi sono di nuovo comunque come avevo già detto Nelle Bedwars Oggi però le farò in solo Eccoci qua Comunque manca un iscritto Ai 30 iscritti Intanto la partita è iniziata Manca un iscritto ai 30 iscritti Quindi se volete Ovviamente io non costringo nessuno Però se volete A me farebbe piacere se ci si arrivasse entro a fine settimana Essendo che oggi siamo a Mercoledì Voi in teoria questo video non so quando lo vedrete Però spero che entro fine settimana ci si arrivi a 30 iscritti Che sarebbe già comunque un super traguardo Comunque adesso bardiamo il letto In questo modo molto molto semplicemente Comunque ringrazio Yello che è un canale che vedrete in sovraimpressione Che intanto mi ha invitato nel loro canale discord E sono veramente gentili Ho accettato ovviamente Tutti molto bello E mi hanno invitato in una vanilla Tipo dei youtuber Mini youtuber Intanto qui stava venendo rosso Ma hai capito che napo In una mini vanilla In un server diciamo Con altre persone E se questo video Cioè se in questo video Commentate se magari vi piacerebbe vedere Anche diversi video Su questa nuova vanilla Io li porterò molto molto volentieri Ho distrutto il letto ai rossi Al rosso volevo dire E mi attacca ammazzarlo Dai vado Non sembra neanche troppo forte Qui lo chiudo No no Madonnina No 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 sono caduto Oddio 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 Adesso mi viene a rompere il letto No 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 Vabbè basta Vieni qui 10 Oh bella fai Mi è piaciuta Veramente poco Allora 10 10 Il stesso del coraggio Oh no è vero Lui non c'è il coraggio Poverello Dammi un blocco Ok Hai messo la TNT Per pensare che mi rompi il letto Ma secondo te me lo rompi Ma secondo te me lo rompi Rompi il letto Allo youtuber più piccolo Al mondo Ah no Sbagliato proprio In più l'ho anche eliminato Cioè Veramente Una roba assulta Allora Mi prendo Armatura in ferro E la spada Non me la posso prendere Poi bardo anche il letto Un po' con La handstone Copriamo un po' tutto Con la lana Vai va benissimo Dai 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 Comunque se questo video raggiunge Facciamo 5 mi piace Che Li raggiungiamo Da quello che ho capito Negli altri video Li raggiungiamo Anche molto volentieri Porterò un video Nelle badwars Insieme a Gabri Fire Se volete un video Insieme a Gabri Fire Lasciate un bel mi piace Che a 5 Lo porterò Comunque adesso faccio Il ponte verso i diamanti Molto molto Semplicemente Eccoci qua Non l'avevamo fatto Ancora nessuno Infatti ci sono 4 bellissimi diamanti Oddio stavo per cadere Comunque aspettate Che faccio lo screen Per la copertina Ok fatto Adesso Prendo Sharpness E in più Mi prendo anche Una bellissima spada In ferro Più una Fireball E ora devo prendere Anche un pochettino Di blocchi Così Perfetto Sono a posto Guarda devo trovare Qualcuno da rompere Il letto Tipo al verde Che il verde L'ha bardato Quasi il letto Quindi Ci penso io Vai Ci penso io Allora Vuole venire Ma che vuol fare? Eh? L'armatura Un diamante Un diamante Trick super No Che è successo? No Madonnina No 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 Ho fatto un grandissimo errore Ho fatto un grandissimo errore Cavolo 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 Volevo fare il trick Cavolo Ora prendo altri blocchettini E vado a Uccidere qualcuno Ora il giallo Non voglio proteggere il letto Quindi mi sembra molto forte a me Arrivo Oh Madonnina No 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 Sono morto Oddio 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 No No Fermi Boni Boni Eh Volevi Era un fermilletto Schifoso Dai 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 Su Andiamo Dai 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 Sì Rotoletto Oddio Oddio Ma Che Che Scusate Va bene Non ho capito come ha fatto uccidermi subito No no La spada Dammi la spada Dov'è Dov'è il giallo Non c'è Dai là Fermi Fermi Boni Altri blocchi Mettiamo qui Poi Spada qui Il giallo è lì in base Però non so se lo sta andando a pushare Cioè se l'acqua sta andando a pushare il giallo ma non credo E ora Che vuoi fare Contro di me eh No c'è la spada in ferro Dai No 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 Cavolo 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 No 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 Ma perché faccio ste cavolate Ma perché le faccio Ma perché Cavolo No Vieni Spada in legno contro spada in ferro Oddio Dov'è No Aveva mezzo cuore Aveva mezzo cuore No 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 Adesso mi rompe il letto Cavolo Ma ha rotto il letto Ma ha rotto il letto Dov'è Se ne sta andando Aspettate Fermi Boni Va bene se ne è andato Ma ora Ora gli faccio vedere io Due fireball Altro che Vediamo Ora a sto giallo Ci penso io Vai Ora ci penso io Eh Ucciso Un applauso Basta 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 Troppo forte Troppo forte Sono troppo forte Me l'adoro Un'altra fireball Un'altra blocchi Allora In molti hanno il letto E in molti No Cioè io e il blu Però Allora il giallo Proprio L'abbiamo fatto fuori Proprio eliminato Del tutto Quindi ora Gli vado in base E vedo se c'aveva qualcosa Nelle ceste No Però c'aveva molti materiali Ullalero Ullalà Ok allora Appena raggiungo i 12 di oro Mi prendo Un bellissimo arco Perché tanto l'armatura è in ferro No no L'armatura è in ferro Eee Ecco perché Morivo subito Allora me la faccio subito Vai Armatura è in ferro Fatta Eeeh Poi non so se prendermi un'altra fireball Che mi ci prendo Meglio i single Oddio Oddio No eh Madonna Mi ha fatto prendere in colpo Vieni Ma che Ma Ma che vuoi fare Ma che No no La gente è matta Oddio Stavo per morire Matta 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 Però manca poco Moio Fireball Fireball Ma dov'è che è venuto Ah ma guardate Ho già proprio fatto Lui è là C'è proprio là Alla sua base Ma Ho fatto tutto Sto giro Per venire a uccidermi Che poi è morto Vabbè Ah poverello Tre fireball Me la doro Ma si dai No Che Ho tirato due fireball Ma che Oddio Madonna Immaginate se uccido qualcuno Ho sbagliato È normale Come è normale Che sbaglio In realtà Comunque Tutti sbagliano Dai 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 Tutti sbagliano Adesso non so che fare Siamo quasi tutti Senza letto Cioè Metà è con il letto Metà no Va bene Ok Bastoncino Con Knockback Me lo son preso Almeno faccio il figo Motto tutti giù Nei ponti Vabbè Ma quello lì Ha usato le scalette Ma Adesso ci vado io Cioè Ha usato le scalette Voleva fare tutto il figo Guardate qui Allora Io non mi ritengo bravo Nel pvp Però che faccio schifo Ah Poi il blu È stato addirittura eliminato Ma comunque ragazzi Cioè Ah Poi l'avevo eliminato io Il blu Vabbè Non mi ritengo forte Nel pvp Però Qua Cioè Non La gente Non è brava Quando sa fare i ponti Tutte ste cose qui Con le scalette E poi more Cioè Non ha senso Fare tutte ste cose E poi morire Vabbè Ma Una pecorella Ma Oh Madonnina Oh chi sono questi È tipo Bella faccia Però in versione pecore 5 fireball Madonna Quante robe Che mi sono preso Mi sono preso Le mele d'oro Accidenta Accidenta Andiamo Oddio No 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 Sono caduto Sono caduto La vittoria Per poco Vabbè Dai ragazzi Per questo video Era tutto Spero vi sia piaciuto Se così state lasciando Un bel mi piace Commentate In quello che mi pare Iscrivetevi Attenete la campanella Per non perdervi Nessun mio video Condividete il video Con tutti i vostri amici E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Senti a sto punto M'ammazzo Grazie a tutti